Oggi siamo alla stazione di Arkoldau, una stazione importante nella Svizzera centrale e volevo farvi vedere il livello di pulizia. Qui andiamo giù per la rampa con la valigia e vedete che non c'è una cartaccia per terra, non c'è un mozzicone, qui c'è l'area di pulizia lasciata immacolata la domenica e soprattutto non ci sono scritte graffiti sui muri. I muri sono immacolati e questa è una cosa incredibile che ogni volta mi stupisce tantissimo.